Consiglio Comunale Aperto sulla sanità, in più particolare sulla situazione dell'ospedale e del pronto soccorso. Viene denunciato questo sovraffollamento. Che cosa risponde la Asel Roma 4? Allora, diciamo che la Asel Roma 4 sul sovraffollamento del pronto soccorso, che comunque è relativo, non è una situazione così critica come viene rappresentata, sta puntando essenzialmente su due aspetti fondamentali, quelli dell'incremento del personale e quello della ristrutturazione dei locali, sia del pronto soccorso ma anche di altre situazioni, di altri reparti che serviranno a decongestione del pronto soccorso. Già molto è stato fatto, altre cose si stanno realizzando. A livello di personale abbiamo avuto ultimamente una deroga per 5 medici a tempo indeterminato e questo darà una grande boccata d'ossigeno in merito al personale, oltre ad altre figure che la regione ha dato deroghe riguardo a due ortopedici, due medici di medicina generale e due psichiatri. Oltre al fatto che comunque l'azienda ha chiesto anche altri due chirurghi vascolari che comunque serviranno a decongestionare il pronto soccorso. Da un punto di vista di lavori, proprio prettamente sul pronto soccorso, c'è la realizzazione del lobby, la cui gara è stata giudicata proprio ieri e l'inizio dei lavori è previsto per metà marzo. Inoltre è previsto anche l'ampliamento della sala d'aspetto del pronto soccorso che prevede un ampliamento praticamente del raddoppio della sala d'aspetto di circa 30 metri quadri, con una struttura molto leggera in vetro quindi anche visibilmente molto gradevole e con un'umanizzazione anche della sala d'aspetto perché verranno installate delle postazioni per il caricamento del telefono e anche la possibilità del wifi libero. Questo riguarda essenzialmente il pronto soccorso. Tante le iniziative, quindi sia a livello di personale che di strutture, a livello di tempi, quando si percepirà questo cambiamento in atto? Allora, sia per lobby che per la sala d'aspetto, la conclusione dei lavori è prevista intorno a settembre-ottobre del 2018, quindi comunque tutto verrà realizzato entro il 2018. Quindi già nei prossimi mesi la situazione dovrebbe migliorare? Sì, sicuramente a livello di personale perché adesso andremo a concretizzare queste cinque figure di medici che ci hanno assegnato attraverso o lo scorrimento di graduatori esistenti o all'avvio di nuovi concorsi, però nel giro dell'estate dovremmo concretizzare già le cinque persone. Per quanto riguarda i lavori, i lavori inizieranno però nel giro di quattro mesi, questa è la previsione per la conclusione, che verranno realizzati.